Buongiorno a tutti, noi siamo Elidio e Valeria, scritta al secondo anno di laurea magistrale in Biomedical Science e ad oggi stiamo intraprendendo il tirocinio curricolare presso l'Iordi Building Zona. Il nostro corso di laurea ci ha permesso di poter ottenere le basi per poter lavorare in un laboratorio di ricerca ed essendo anche in lingua inglese, questo ci ha permesso di poter comunicare con il mondo scientifico. Per quanto riguarda la lingua inglese, non c'è da aver paura, in quanto i professori sono molto disponibili a rispiegare l'argomento e quindi a renderlo più facile. Vi aspettiamo di conseguenza all'open day del nostro corso di laurea di Biomedical Science.